Chi riuscirà a sopravvivere agli intrighi? Oggi giochiamo a Citadel! Ciao a tutti, giocatori, giochitrici e semplici curiosi! Noi siamo Giuliale e vi diamo il bentornato nella nostra mansarda per un nuovo gameplay. E se siamo qui è soprattutto grazie al supporto di tutti coloro che ci seguono su Patreon e quindi anche voi se volete darci una mano o continuare a crescere fate un salto qua sotto in descrizione dove troverete un link per poterci dare una mano e avere accesso a un sacco di contenuti esclusivi. E oggi sul nostro tavolo a linea vestiremo i panni di nobili che cercheranno di avere la città, la Citadel più bella e più remunerativa quindi che ci dia tanti soldini e per farlo dobbiamo costruire dei quartieri e per costruire i quartieri ci vogliono i soldi e per avere i soldi bisogna riuscire ad avere dalla nostra i personaggi dare l'influenza dei personaggi facoltosi però anche magari di personaggi che non sono così illustri perché ci possono essere ladri, assassini, maghi comunque come state vedendo noi abbiamo una vecchia 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 edizione del gioco una delle primissime è stato poi ristampato recentemente con una nuova grafica una nuova scatola però questa abbiamo che includeva già anche l'espansione e quindi l'abbiamo ottenuta però il gioco crediamo che non abbia subito grosse differenze nelle regole secondo noi no inoltre questo è un gioco particolare perché è un gioco di faruoli nascosti che però secondo noi anche in due funziona molto bene è vero che l'esperienza di gioco cambia molto dall'essere in due all'essere in quattro, in cinque o in sette però anche in due giocatori secondo noi è bello e siccome è un titolo che ci avete chiesto anche in parecchi commenti sotto i nostri video allora abbiamo scelto di portarlo fatta questa piccola premessa noi partiamo con e poi è un gioco bellissimo perché il primo giocatore è quello più vecchio più vecchio quindi è Vale che sarà il nostro re per iniziare avrà la corona e noi partiamo con quattro carte quartiere e due alpen libe che sarebbero due monete d'oro sicuramente non fate vedere questo gioco ai bambini perché queste cose cambiano sembrano proprio delle alpen libe e sono belle però comunque nel nostro turno che succede? a partire dal re prenderà le nostre otto carte personaggio che saranno sempre queste a seconda del numero di giocatori si mescolano e in due giocatori casualmente questo in realtà si fa sempre casualmente se ne scarta una a faccia coperta noi non sappiamo che personaggio è fuori per questo round dopodiché Vale guarda le carte e ne sceglie una per sé dopodiché mi passa le sei restanti carte normalmente questo draft si fa comunque anche se si è in più giocatori a seconda del numero di giocatori oltre a una carta a faccia coperta ce ne saranno una o due o tre a faccia scoperta poi i giocatori le prendono e di norma l'ultimo avrà sempre la scelta tra due carte ne tiene una e l'altra viene scartata a coperta questo verrà comunque anche in due giocatori dove la differenza principale è che anziché avere un personaggio a testa avremo due personaggi a testa di cui potremo utilizzare le loro abilità e faremo quindi due turni ma costruiamo una città sola quindi non è che abbiamo fingiamo di essere due persone diverse quindi io ne scelgo una e ne scarto una a faccia coperta inoltre i personaggi sono numerati da 1 a 8 i personaggi si attiveranno esattamente in quell'ordine quindi anche se Vale adesso verosimilmente ha capito che carta ho in realtà a me me ne frega poco perché lei ha capito che io ho tenuto o lo a 1 o lo a 2 però a chi se ne e questa la scarto a faccia coperta quindi in questo momento noi abbiamo due carte non le riveliamo ancora perché adesso il re chiama i vari personaggi in ordine chi ha quella carta personaggio la rivela e fa il suo turno se può quindi personaggio numero 1 ossia l'assassino qualcuno ha l'assassino? no quindi niente si salta l'assassino e si passa al personaggio numero 2 il ladro chi ha il ladro? io ho il ladro quindi il ladro quando si rivela annuncia il nome di un personaggio io per esempio annuncio 7 l'architetto facendo così quando verrà chiamato il 7 se il 7 c'è e si rivela io gli ruberò tutte le monete che ha in quel momento il giocatore che ha scelto l'architetto giocando in 2 sarà ovviamente Vale se l'ha scelto io non lo so potrebbe anche essere l'8 forse il 7 era la prima scartata chi lo sa ci ho provato 50-50 dopodichè io faccio il mio turno il turno normale è fare un'azione e l'azione può essere prendere 2 monete oppure pescare 2 carte quartiere tenermi una io sceglierò di prendere 2 monete dopo che ho fatto la mia azione io posso fare posso costruire uno e un solo quartiere come si fa a costruire un quartiere? così si gioca la carta davanti a noi io per esempio gioco il monastero il costo è quello scritto in alto ovvero quei 3 pallini sono 3 monete d'oro e come vedete il monastero è una carta azzurra questo è importante per alcuni effetti di alcuni personaggi inoltre io pago 3 e le ributto la inoltre a fine partita noi faremo più punti se riusciremo ad avere un edificio in ciascuno dei 5 colori e quindi il mio turno io l'ho finito e adesso andiamo avanti a chiamare il personaggio numero 3 il mago io non ce l'ho no 4 il re intanto devi chiamarli tu 4 re no 5 5 il vescovo no il vescovo sì ce l'ho sono io quindi adesso si attiva il vescovo prima cosa che fa il vescovo quando si attiva siccome non è stato assassinato dall'assassino non è stato derubato dal lavro mi fai derubato dal sonno mi popiva ricevo una moneta d'oro per ciascun quartiere religioso blu che è nella mia città ne ho uno e quindi prendo una moneta dopodiché faccio il mio turno inoltre il condottiero non mi può distruggere gli edifici questo è l'altro bonus del vescovo l'altra mia azione è pesco due carte e ne tengo una delle due che ho pescato certo e quella che non scelgo va in fondo al mazzo dopodiché posso costruire qualcosa e io scelgo di costruire il mercato che mi costa due monete 6 il mercante ce l'ho ce l'avale il mercante che non è stato assassinato non è stato derubato dà a vale una moneta per ogni quartiere verde che ha non ne ha poi fa la sua azione finita la sua azione riceve una moneta quindi sia che scelga di prendere monete che scelga di prendere carte io prendo monete quindi due più una perché ha fatto la sua azione e ora può costruire un quartiere anche vale e costruiamo 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 un bel un bel porto castello 8 che costa 4 monete 7 l'architetto che viene derubato dal ladro quindi il ladro quando il personaggio è annunciato gli prendo tutto il suo oro uno era però meglio di un pugno nei denti allora l'architetto dopo aver effettuato un'azione pesco due carte e poi le metto tutte e due nel ladro esatto quindi vale ora può scegliere di prendere carte di prendere monete e poi posso costruire inoltre l'architetto può costruire anziché solo uno può costruire fino a tre quartieri allora comunque io prendo monete e quando finisce la partita appena un giocatore ha otto quartieri davanti a sé o sette se si vuol fare una partita leggermente più breve cosa che faremo noi quindi quindi cambia poco cambia di due giri però poi prendi carte prendi carte e me le metto in mano certo e poi valendo posso costruire fino a tre quartieri sì quindi io ne costruisco due va bene da una monetozza l'uno è importante noi non possiamo avere due edifici con lo stesso identico nome quindi ho due monasteri e non li posso mettere finito? sì quindi tutti i personaggi ritornano nel mazzo il re rimane vale perché nessuno ha giocato il re in quanto il re permette oltre di prendere monete per i quartieri gialli che abbiamo anche di diventare primo giocatore nel round successivo e quindi come prima prego amore ne scarta una più di prima scarterò no non ho controllato le carte l'ho fatto volutamente di non farci caso che stavo parlando apposta per non essere neanche minimamente ma iniziosamente concentrato la mia vita la mia vita ti darò allora e allora mi passa questa io ne scelgo una per me e una da buttare sono il re 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 ho fatto la stessa giocata di prima veramente vabbè chissà però cosa ho tenuto che scontato che scontato sei molto molto scontato scontatissimo dai bugia bugia scontatissima chi sei tu amore mio quella me la scarta e io di queste ne tengo una e una la scarto perfetto ok vai re chiama uno chi è l'assassino no 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 è vero ti sei tenuto il ladro certo due chi è il ladro io sono un ladro io voglio derubare il mercante quindi la carta numero sei verde dopo di che faccio il mio turno prendo due carte Maurizio ciao prendo due carte si chiama Maurizio e ne costruisco una visto che posso pagando due money 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 e metto giù la chiesa fatto number three il mago no sì sono il mago sono il mago e io come mago come azione del mago posso scambiare le mie carte con quelle di un altro giocatore oppure scartare un qualsiasi numero di carte e pescare un pari numero di carte io voglio scambiare le carte con Vale due sì e ne prendo tre oh wow vabbè però le mie sono più giocabili delle tue le mie che avevo sono più giocabili delle tue che ora sono le mie numero quattro aspetta devo fare la mia azione prendo due monete e posso giocare e costruire qualcosa e io voglio con tre monete venire a costruirmi il campo da battaglia prego quattro il re cinque il vescovo sei il mercante a cui rubo tutti i soldi che non ha ottimo quindi ricevo la moneta d'oro per ciascun quartiere verde che ho e siamo a due poi faccio la mia azione che è prendere monete e poi mi dà un'altra moneta si mette giù la carta grossa i punti come sono dati ogni moneta che noi abbiamo speso per mettere giù gli edifici è punti inoltre se abbiamo i cinque colori sono tre punti chi per primo raggiunge gli otto o sette nel nostro caso quartieri fa quattro punti e se un altro giocatore nello stesso turno comunque fa otto quartieri fa due punti spendendo cinque monete che è venuto al palazzo che brava wow poi c'è l'architetto si che sono io si quindi azione prendo soldi poi prendo due grazie all'architetto mi prendo due carte e me le tengo e poi posso costruire fino a tre si mi costruisco tre e finito e richiudo la partita ciao a tutti è stato bello ne costruisco una la prigione e mi ti manca solo un edificio viola per fare il il coso va bene sei sempre tu il primo sono il re il re di citadel citadel poi l'altro e poi sotto se no stiamo uscendo già dall'inquadratura ho stretta troppo l'inquadratura scusa Damiano Damiano mi dice sempre no ma tu lascia io poi zoom in post produzione abbiamo preso il 4k apposta e a me non lo so mi sembra sbagliato non lo scordo che lui deve fare di testa sua no? perché d'altronde se lui va dal medico è lui che dice al medico che medicina da sì di solito sì sai quando uno è intelligente come me di solito capita è vero io vado non come lei che non va perché lei no no se non va non è malata non so io non lo so non lo so come prima più di prima ti amico non lo so non lo so però vale tutte le volte voglio vedere se cambi gioco ogni tanto tutte le volte non è colpa mia cioè io sono brava sei tu che sei scontato dai su adesso mancherà quello e quello? no bravo grazie bravissimo tanto ora so cosa fai che ne è una da scarti e l'altra fai finta di averla tenuta ma non l'hai tenuta è quella che hai scartato io lo so quello è il sette questo quello lo scarta ed è l'uno e fa finta di aver di aver tenuto l'uno come ti ho detto pulito che ha fatto quello questo è l'uno questo è il sette è stato detto dopo ve le mostro allora a questo punto io faccio così ok ok uno assassino ce l'ho io non è vero scommettiamo che è questa ma quanti fatti suoi? mettiamo che è questa tanto se non c'è questa assassino come l'ho preso? prega come l'ho preso? due il ladro non c'è il ladro tre il magu ce l'ho io il magu quindi io nuovamente posso scambiare le mie carte con te o te con me oppure io posso scartare carte e ripescarne fino tante quante ne ho scartate io scarto una carta quartiere e ripesco un numero pari di carte quartiere a quelle che ho scartato dopodiché come azione prendo due monete e dopodiché come azione con una moneta costruisco questa la torre di guardia il re ce l'ho io ah finalmente c'è il re quindi vale diventa primo giocatore lo hai già e guadagno una moneta per ogni edificio giallo che ha poi come azione prendo due monete va bene quindi facciamo sette carte? così hai detto all'inizio? non lo so poi se vogliamo fare otto facciamo otto dimmi tu tre cinque come vuoi te? ditemi no no hai detto sette? vai sette facciamo sette così vale chiude già sto giro che lì c'è l'architetto ho detto subito che lì aveva l'architetto il ladro non c'è? no però tu hai trattato il condottiero che mi uccidi un qualcosa? il condottiero che ancora non avete visto permette pagando di distruggere un edificio no 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 non costruisco nulla perfetto cinque il vescovo il vescovo non c'è sei il marcante non c'è sette l'architetto c'è come ho detto lì era il sette l'ha l'uno fa presa pulita proprio quindi ma perché la conosco so come ha ragionato le carte che sono quelle so come ha ragionato ho fatto finta prendo due monete ma non ho fatto finta perché io le ho passate lei mi ha dato l'uno e il due come mi ha dato in tutte le giocate io le ho ridate consapevole che avrebbe scartato l'assassino e si sarebbe tenuto a qualcos'altro di più bello fingendo di essersi tenuto all'assassino per poi ridarmi il ladro che io però ho scartato mentre lei pensava che lo tenesse e scrivisco due sì perché l'architetto permette di costruirne più di una e quindi arrivi a sette e quindi finisce la partita tra l'altro finendo adesso la partita perché abbiamo scelto di fare la partita breve visto che Vale ha chiuso la sua città il condottiero non può distruggere l'avversario tre e quattro sei proprio una faccia di fontina e pure tutti i colori sì cioè hai vinto non lo so sì hai quattro punti io come faccio c'ho una carta sola otto il condottiero guadagno due monete sono stontata guadagno due monete come azione avrei distrutto qualcosa a te ma non può perché però non posso perché lei ormai ha chiuso la città quindi non gliela posso più distruggere e allora niente tutto ciò che faccio è prendere ancora due monete e costruire questa che pago due monete basta neanche ne so fuori dall'inquadratura vabbè fine quindi abbiamo già finito si giocherebbe ancora a costruire un'altra carta per fare una partita lunga al giusto ma noi abbiamo detto di farla un po' più breve ma non così breve pensavamo ma vabbè e contiamo i punti quindi ogni pallino sulle nostre carte è un punto chi ha chiuso la città per primo che vale fa quattro punti aggiuntivi io avessi anche chiuso la mia città farei due punti aggiuntivi chi ha un edificio per colore fa cinque punti tre punti scusatemi aggiuntivi io non ho né gli edifici per colore né ho arrivato ho arrivato alla ma no non so neanche più parlare dalla rabbia ho fatto pochissimi punti quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quindi io ho conti quattro punti perché ho chiuso ho fatto la città e tre punti perché ho chiuso e parto da sette otto nove dieci undici dodici tredici quattro cinque cinque sei sette diciotto diciannove venti 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 quattro brava questo conta io sono ma conta cosa conta venti quattro io sono arredito io sono arredito cioè ma quanto è durato tre giri abbiamo fatto cioè tre quattro giri solo fatele dei meme vi prego fatele dei meme e vi supplico signore e signori questo era citadel noi vi ringraziamo per essere stati con noi io sono davvero senza parole lo capisco che non è più non è più sfidante vedere i nostri video perché tanto è palese che vinca lei ma scusami ma scusami ma scusami ma vale ma vale la carta contata ma no ti avevo appena fatto il ladro eri senza soldi certo che tipo quelle grosse ma io ho fatto una moneta ma eri zero soldi no money no money zero pulito ma boh signori io sono non lo so cioè scegliamo d'ora boh boh va bene grazie ciao hai scelto il gioco di beffa che sta qui mi piace commenti grazie damiano si gioca per giocare giullari vi salutano che cacosi sono senza parole ciao basta no no vale ma come cazzo ma va